Il loggiato vasariano si rifarà il look, finalmente verrà messo mano a queste colonne che più volte anche noi come Arezzo TV abbiamo denunciato essere in condizioni davvero improponibili. Ci sono infatti anche dei tamponamenti con delle assi di legno, il loggiato come sappiamo nella parte delle colonne è di proprietà comunale e quindi proprio qui interverrà appunto il comune di Arezzo. Sentiamo come dalla voce del vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. I lavori partiranno nel mese di settembre, abbiamo diversi mesi davanti, abbiamo deciso di partire da settembre per evitare di iniziare con il cantiere nel periodo estivo dove le attività commerciali della piazza lavorano e hanno l'esigenza di mettere i tavolini, di accogliere i tanti turisti italiani e stranieri che vengono. E quindi dal mese di settembre dopo le giostre perché ci sono anche quelle inizierà il cantiere che dovrebbe andare avanti per sei mesi quindi per il Natale se tutto va bene perché ci sono sempre i sei ma quando si parla di apparti pubblici però se tutto dovesse andare per il verso giusto nell'arco di sei mesi dovremmo concludere. Nell'arco di sei mesi quindi da settembre si va a marzo si dovrebbero concludere i lavori. Che cosa andranno a risistemare questa ristrutturazione? Allora la prima ristrutturazione riguarda il primo lotto riguarda il rifacimento e la ristrutturazione di tutte le logge che vanno da Piaggia San Martino fino alle scalinate centrali comprese queste quindi rifaremo anche le scalinate e ammonta circa 200 mila euro. Questi 200 mila euro ci sono anche 50 mila euro che ci ha dato la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il secondo lotto che lo faremo nel 2019 vedrà il restauro di queste altre colonne che sono un po' meno sciupate anche perché sono riparate dal Palazzo di Fraternita. E quindi contiamo nell'arco di due anni di riuscire ad arrivare in fondo al restauro soltanto delle colonne perché ricordiamo le colonne sono di proprietà comunale mentre tutto il Palazzo, la parte superiore è condominiale quindi ci sono anche altri privati che hanno appartamenti. Vediamo un pochino se e quando intervenire anche nella parte superiore. Grazie. Grazie. Grazie.